La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi una delegazione dei familiari delle vittime e degli ostaggi dell'attacco del 7 ottobre scorso da parte di Hamas a Israele. Nell'incontro, fa sapere, Palazzo Chigi ha ascoltato le storie dei familiari e ha espresso il profondo sgomento per la ferocia con cui Hamas si è accanito contro i civili, non risparmiando donne, bambini e anziani. La presidente Meloni ha rinnovato la solidarietà e la vicinanza del governo a Israele e ha ribadito la preoccupazione per gli ostaggi, confermando il suo impegno per la loro liberazione immediata.